Questo giro che abbiamo qui a Marquo fa parte della rete deliziana e avrà la possibilità di avere troncine di primo livello a Marquo, quindi di primo di secondo livello a Bessar. Ho avuto l'opportunità cinque anni fa di inaugurare l'arrivo che usciva qui a Marquo, e quest'oggi l'ampliamento dà un'ulteriore risposta a tutta la cittadinanza marconese, soprattutto sul tema della prevenzione e della ricerca. Grazie per la visione!